Potrebbe arrivare già venerdì 14 luglio la sentenza per il caso dell'omicidio di Gigi Bici. Luigi Griscuolo è stato ucciso la mattina di lunedì 8 novembre 2021 a Calignano, una frazione di cura Carpignano. Il corpo venne però ritrovato solo il 20 dicembre, sei settimane dopo il delitto. Una vicenda che rimase avvolta nel mistero fino all'arresto e alla successiva confessione di Barbara Pasetti, la donna che aveva simulato il ritrovamento del cadavere all'esterno della sua abitazione. L'attenzione degli inquirenti si era subito concentrata sulla quarantenne che però aveva sempre negato di conoscere il commerciante pavese. Dopo l'arresto avvenuto il 20 gennaio del 2022, la fisioterapista aveva passato diversi mesi in carcere prima di decidere di confessare. Il 5 ottobre dello stesso anno, a distanza di quasi 10 mesi, Pasetti aveva spiegato di aver sparato a Gigi Bici perché lui la ricattava. La donna, infatti, aveva assunto Criscuolo per mettere paura all'ex marito. La mattina dell'8 novembre Pasetti e Gigi Bici si erano incontrati nel cortile dell'abitazione della tenuta di Calignano. Durante una discussione la quarantenne aveva impugnato una pistola calibro 7,65 e aveva sparato al commerciante. Un colpo partito per sbaglio aveva spiegato Pasetti che però era stata accusata di omicidio volontario, occultamento di cadavere, detenzione di arma illegale e tentata estorsione per aver anche chiesto soldi alla famiglia di Criscuolo, inscenando un finto rapimento nei giorni successivi al delitto da parte di una banda criminale dell'est Europa. Nella prima udienza del processo, che si è tenuta fine aprile scorso, alla donna è stato concesso il rito abbreviato. La procura di Pavia non ha contestato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Venerdì potrebbe quindi già arrivare alla sentenza con uno sconto di pena, proprio in virtù del rito abbreviato.